Così? È vero? Mi sento quasi sciupata quanto... Stai dimagrito un chilo... Sono stati bravissimi, un chilo e tre. Un chilo e tre? Solo nella seduta di oggi? No, pensa quanto sono sovrappeso. Domani andrai? Domani ho un altro appuntamento, sì. Un altro chilo e meno? Wow! Mi arrivo a casa sciupatissimo, mi arrivo... Quindi l'ha provato anche Stefan's Walk. Grazie a Neafit, dimagrire il relax.